Diciamo che Acquardens offre veramente un'esperienza tutto tondo, nel relax, nella rigenerazione fisica. Mi piace tantissimo questo posto. Il Bella Vista Relax è uno tra i miei posti preferiti. È intimo, caldo, mi offre l'occasione per rilassarmi e fare un po' mente locale su quello che succederà la settimana dopo. Poi abbiamo questa bellissima vista sulle colline della Valpolicella che aiuta il tutto. Grazie.